come fare un tostapane funzionante sia in minecraft bedrock edition che java edition i saluti a fine video allora come funziona questo meccanismo questo tostapane che ti ripeto la stessa costruzione che vedrai oggi con redstone funziona sia per bedrock che java edition c'è una piccola differenza ma veramente banale allora ovviamente devi aver fame clicchi questo pulsante e semplicemente ti viene dato un po di pane da questo tostapane ora andiamo a vedere il meccanismo di redstone che si cela dietro questi blocchi ci dobbiamo soltanto ricordare che se vogliamo costruire il nostro tostapane di fronte a questa struttura il nostro la nostra armadura non andrà posizionata in questo modo ma andrà posizionata nel modo opposto ok quindi andiamo ora a costruire il tutto distruggo questa parte questa me la mantengo e distruggo questo blocco e qua ci mettiamo subito il nostro distributore che poi riempiremo con del pane facciamo un buco esattamente di fronte al distributore e lo riempiamo in minecraft bedrock edition di 1 2 3 4 stradi di neve nella java edition ti devi ricordare di farne 5 poi il meccanismo è esattamente lo stesso bisogna ora posizionare la nostra armatura come vi dicevo dobbiamo posizionarla nel verso differente io mi faccio un po di spazio ma soltanto per aiutarmi con dei blocchi ok vado a posizionare l'armatura che cade e viene arrestata dalla neve mi sto accucciando clicco con il tasto destro così posiziono anche le braccia dell'armatura nella posizione corretta ora arrivato a costruire a posizionare questi blocchi ok e andiamo al passo successivo il passo successivo consiste nel posizionare il teschio di scheletro sull'armatura e poi dobbiamo andare a nascondere l'armatura stessa per farlo il distributore abbiamo posizionato mettiamo mi prendo questo blocco momentaneo metto un pistone normale esattamente in questo punto poi mi prendo quest'altro blocco ok e vado a spingerlo verso il basso esattamente così uno ne metto un altro di blocco e nuovamente lo spingo ok quindi abbiamo coperto la nostra armatura questa parte qui la posso anche andare a distruggere qua possiamo coprire il tutto ora prendiamo espositore lo mettiamo con il tasto destro esattamente in questo modo poi il nostro la nostra testa di drago sto guardando inquadrando l'espositore tasto destro ho posizionato il nostro la nostra testa di drago ma io adesso inquadrando ancora l'espositore clicco con il tasto destro perché voglio fare rodare e fare uscire queste due levette che daranno diciamo struttura al nostro tostavane funzionante ora andiamo a costruire la redstone portiamoci allora alle spalle del nostro tostavane nel distributore ovviamente incominciamo a mettere del pane ok poi alle spalle del distributore 1 e 2 ok verso questo lato perché da questa parte noi andremo a mettere un pulsante il pulsante andrà ad attivare questa redstone che andrà a darci ad azionare il distributore clear non ho niente in mano clicco e guardate il distributore magicamente riesce a darmi il pane costruisci anche tu il tuo tostavane nel tuo mondo minecraft prima di saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link per agganciarti al nostro server discord e dal nostro server minecraft che sia bedrock che già attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane e un prossimo contest è in arrivo poi se non già fatto iscriviti e fai iscriviti soprattutto i tuoi amici qui al server discord e sul canale youtube detto questo commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto michael boomer z e b ninja 13 su youtube game squad e lori the gamer dal canale disco che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento ciao grazie 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 grazie